Sicuramente le nostre zone del mezzogiorno, la nostra Calabria ha bisogno praticamente di progetti che praticamente guardino alle infrastrutture e ai trasporti. Bisogna adottare delle politiche comuni e soprattutto bisogna accedere a quelli che sono i finanziamenti che l'Europa ci propone. Le linee di finanziamento che praticamente l'Europa ci ha proposto e che ci dice io vi do ma dovete anche spendere, saper spendere soprattutto nei tempi che ci dice l'Europa. Sicuramente bisognerà guardare a quelli che sono praticamente gli Eurobond perché sono in questo momento dei mezzi che ci possono dare comunque dei finanziamenti per le nostre strutture e per i nostri servizi pubblici ma soprattutto bisogna guardare anche alla ricostruzione di quelli che sono anche le strade per esempio della nostra Calabria. Tutti parlano del ponte di Messina, Salvini non fa altro che arrivare in Calabria e parlare del ponte di Messina ma lui ha visto le strade, in che condizioni sono le nostre strade, ha chiesto ai reggini, ha chiesto ai messinesi se questo ponte lo vogliono e poi soprattutto ci dimostra qual è il programma praticamente di questo ponte. Io a mio avviso so che praticamente il progetto attuale impedisce per esempio alle navi di crociere di passare sotto questo ponte quindi prima di parlare di ponte bisogna soprattutto guardare a quelli che sono i problemi delle nostre infrastrutture, bisogna guardare i problemi stradari, collegamenti, i trasporti che sono praticamente insufficienti e poi probabilmente a parlare anche del ponte sullo stretto.